devo moltissimo a mia madre l'ho detto anche la cerimonia degli oscar ho cominciato a fare teatro mi piaceva molto poi è stato il cinema a scoprirmi quando sono diventata famosa con speed avevo già 28 anni grazie a mia madre elga tedesca d'origine cantante d'opera perfezionista mi sono risparmiata le fesserie tipiche delle adolescenti di successo a dirlo è sandra bullo crescente vincitrice dell'oscar come miglior attrice per the blind side battendo due leggende come mary stripp e le miren in un'intervista esclusiva to style l'attrice spiega anche il suo ritorno al vertice vuole proprio saperlo una fortuna chiamata giulia roberts avevano offerto a lei due film ricatto d'amore e the blind side entrambi hanno avuto un gran successo quindi è ufficiale d'ora in poi accetterò a scatola chiusa tutti i copioni che la roberts rifiuta